carissimi amici che ci ascoltate un saluto a tutti voi da gianna cataudella il prossimo 28 novembre un giorno importante per la nostra diocesi perché ricorre il primo anno di insediamento e del nostro vescovo monsignor carmelo cuttitta e il tempo è passato in credo abbastanza in fretta e penso sia utile anche importante per fare una sorta di verifica di bilancio di questo anno e per questo motivo non abbiamo il piacere di oggi di avere ospite in studio il nostro vescovo monsignor carmelo cuttitta che ringrazio per la sua gentile disponibilità grazie a lei grazie a voi che ci ascoltate siamo qui proprio per cercare di vedere un po questo primo anno di mia presenza qui nella diocesi di ragusa partiamo dall'ultimo evento in ordine cronologico il 12 novembre scorso lei ha chiuso nella cattedrale di san giovanni battista ragusa la porta santa del giubileo della misericordia il suo primo anno di servizio nella diocesi di ragusa è coinciso con questo evento così importante anche perché per la prima volta nella storia del giubileo il papa francesco ha voluto le porte sante in tanti luoghi del mondo e non soltanto a roma così è stato anche per noi a ragusa qual è il suo bilancio personale per questa esperienza e come a suo parere hanno vissuto i ragusani questa opportunità della porta santa in cattedrale io credo che papa francesco ha avuto una grandissima intuizione quella di volere non delimitare l'apertura delle porte sante nella città di roma ma ha voluto che tutte le cattedrali del mondo avessero una porta da attraversare come segno di ingresso all'incontro con il signore soprattutto come esperienza di misericordia e di fede nella nostra diocesi qui di ragusa sono stati tanti gli appuntamenti adesso non non saprei dire quanti sono stati perché non li ho contati ma ci sono state tantissime occasioni e opportunità per me rimane indelebile l'apertura della porta santa avvenuta lo scorso anno appunto è un altro appuntamento molto significativo quello il giubileo dei ragazzi c'erano circa 5 mila ragazzi proveniente da tutta la diocesi che hanno affollato la città di ragusa e che poi si sono ritrovati nelle piazzale antistante alla cattedrale per celebrare l'eucaristia e poi come non pensare agli ammalati come non pensare ai ragazzi agli innamorati ai fidanzati alle famiglie alle associazioni di volontariato a tutti coloro che animano la carità anche nella diocesi questo anno io lo definirei un anno veramente di grazia perché attraverso i segni del passaggio attraverso la porta santa della cattedrale ma soprattutto con l'impegno di tante persone che hanno voluto accompagnare questo gesto dell'attraversamento della porta con gesti concreti di carità nei confronti delle persone il prendersi cura delle situazioni familiari delle situazioni di disagio tra i giovani del fare attenzione ai bambini che spesso tante volte vengono anche maltrattati e che sono privi degli affetti basilari quelli della famiglia stessa credo che in questo anno abbiamo avuto la possibilità di sperimentare gioiosamente l'esperienza dell'incontro con il signore che cambia la nostra vita ci sono diversi racconti anche di ragazzi e di giovani che si sono sentiti particolarmente toccati in un passaggio diciamo attraverso il giubileo vorrei anche mettere in risalto un giubileo particolare che abbiamo vissuto recentemente è quello dei carcerati papa francesco aveva detto che all'interno dello stesso carcere bastava attraversare la porta della cella per sentirsi in comunione con la chiesa e per sperimentare la misericordia del signore ebbene quando abbiamo celebrato recentemente il giubileo con i carcerati i sacerdoti di ragusa si sono passati la voce e una ventina di sacerdoti hanno avuto accesso al carcere di ragusa e hanno concelebrato insieme con me rimanendo nella stessa cappella con i detenuti a me è sembrato un gesto molto bello da parte dei sacerdoti che ha voluto sottolineare la loro attenzione e la loro volontà di prendersi cura anche di questi fratelli che pur avendo sbagliato hanno bisogno di una nuova opportunità hanno bisogno di forse anche di scontare la pena certamente perché è giusto che sia così ma hanno bisogno di essere poi direi condotti anche da noi perché possiamo in qualche modo aiutarli a rifarsi una vita a riprendere un cammino virtuoso della loro esistenza di fatto è stato un anno particolare anche soprattutto per chi magari non è abituato ad andare in chiesa e magari è stata un'opportunità per chi voleva rimettersi in righe in linea non so se lei ha avuto modo di poter parlare con qualcuno che magari è sempre stato lontano dalla chiesa magari con questa esperienza si è avvicinato e ha voluto vivere questa opportunità sì ci sono dei singoli casi spesso anche dei giovani per esempio che magari si aggregano agli altri e vivono un'esperienza che loro non conoscono però una volta entrati dentro in realtà ci sono stati ragazzi che poi hanno dato anche delle piccole testimonianze molto significative perché qualche volta rimanendo un po' ai margini della vita ecclesiale si percepisce o si vede la chiesa come una realtà direi del passato e invece la bellezza di vedere alcuni di questi giovani che alla prima esperienza si pongono degli interrogativi si pongono in atteggiamento di ascolto e non di critica fa percepire come in realtà l'incontro con una realtà ecclesiale può anche cambiare la vita di una persona e di questi cambiamenti ce ne sono stati penso anche per esempio ai ragazzi che hanno partecipato alla gmg nell'estate scorsa io ero anche lì con loro e quindi vedere alcuni ragazzi che magari sono venuti con la curiosità poi dopo le celebrazioni dopo le catechesi dopo che ci sono stati degli incontri reali con persone concrete è cambiata la fisionomia direi proprio del loro volto c'è stato una apertura verso un'esperienza che rimane sempre un'esperienza ma che può essere l'inizio di una nuova esperienza di vita ma credo che un po l'intento di papa francesco era proprio questo cioè presentare la misericordia presentare l'amore presentare un dio che non è giudice perché questo spesso è il problema che allontana sia i giovani ma anche gli adulti quindi penso che sicuramente il bilancio di quest'anno sia estremamente positivo in questo senso io credo che sia assolutamente positivo tuttavia nella chiesa sia il papa e i vescovi con lui non sono abituati a misurare e a calcolare la dimensione invece bella è quella che il papa ci ha insegnato seminare spingere a far comprendere chi è veramente dio far conoscere un dio che non giudica ma che invece perdona accoglie usa misericordia e comprensivo ti ama anche se hai sbagliato tutte queste cose sono quanto mai significative e manifestano il vero volto di dio un volto di misericordia un volto di amore certo in questa relazione che si viene a stabilire proprio tra i giovani e la presenza di dio stesso poi avviene quello che noi chiamiamo all'interno della chiesa la conversione cioè il conoscere e poi conseguentemente adoperarsi per cambiare la propria vita e dare un orientamento nuovo alla alla propria esistenza e quello che in fondo tutti quanti noi desideriamo e che forse certe volte non riusciamo a realizzare perché non riceviamo la piccola spinta che ci motiva e ci fa cambiare realmente la vita il 29 agosto i ragusani festeggiano il loro amato patrono san giovanni battista e con grande devozione e partecipazione e per lei è stata la prima volta come ha vissuto questa esperienza ma è stata un'esperienza molto molto bella in realtà proprio perché non conoscevo questa particolare venerazione che c'è a ragusa del precursore di gesù di giovanni il battista mi sono reso conto che c'è un substrato nella religiosità manifestata durante la processione un substrato molto molto semplice molto buono e una devozione direi popolare della gente ho potuto constatare che c'era veramente direi non solo ragusa ma anche dai dintorni tantissima altra gente che è venuta a vivere questo momento devozionale però io sono convinto che il la persona il patrono che noi veneriamo san giovanni il battista è una figura significativa giovanni il battista è un uomo serio è un uomo che effettivamente ha dato una grande austerità alla sua vita e il suo compito è stato quello di preparare la via al signore anche nell'omelia sia della della messa del giorno come alla fine della processione ho voluto richiamare proprio questa figura così significativa così grande capace di donare la testa di rimetterci la testa per la testimonianza del signore in realtà è quello che un po' i credenti dovremmo fare dovremmo giocarci la nostra testa proprio per la testimonianza del signore il martirio è la vera testimonianza della fede altro non è se non questo diciamo che l'avere san giovanni il battista come patrono in realtà è molto impegnativo per tutti noi ragusani è fin troppo chiaro questo perché se Giovanni il battista è stato capace di testimoniare Cristo anche a costo del martirio io credo che ce lo insegnano solo lui ma ce lo insegnano anche gli altri martiri i martiri che vivono nella storia nel tempo come non citare in questo momento proprio il beato Giuseppe Puglisi ma insieme con lui ce ne sono tanti nel mondo che ogni giorno rendono testimonianza e la loro testimonianza diventa realmente tale proprio quando perdono la vita per ritrovarla nel signore Gesù nel suo messaggio nel suo primo messaggio alla diocesi quando è stato nominato vescovo lei ha affermato che appunto parliamo del beato Giuseppe Puglisi che nell'annuncio della buona novella ecco voleva ispirarsi proprio a lui che appunto il beato Giuseppe Puglisi lei ha affermato che c'è modello per la sua testimonianza martiriale che ho conosciuto quando ero parroco a Godrano e in che modo lei è riuscito ad applicare questa esperienza di Don Puglisi qui da noi considerando che l'ambiente ragusano è credo un po' diverso rispetto a quello di Palermo per modo di vivere, per le tradizioni, per la cultura, per la realtà sociale? il primo elemento importante è quando si assume un incarico come quello che io ho assunto quello di diventare il vescovo di Ragusa e il Papa che me lo ha chiesto e a lui ho risposto di sì è fin troppo chiaro che la prima dimensione da coltivare è quella della conoscenza diretta la conoscenza delle persone innanzitutto, la conoscenza del territorio, la conoscenza della cultura locale la conoscenza anche delle disfunzioni che ci possono essere nel vivere civile, nelle singole città Ragusa non è Vittoria, Comiso non è Acate e così via dicendo per cui la prima dimensione che io ho voluto mettere in moto è quella della conoscenza diretta dei sacerdoti per esempio, come anche dei laici, dei gruppi ecclesiali e così anche di tutte le varie realtà che compongono questa diocesi mi sono reso conto, l'ho anche scritto da qualche parte mi sono reso conto in realtà che è una diocesi abbastanza vivace dove ci sono tante iniziative che si moltiplicano ne nascono di nuove e c'è sempre un grande entusiasmo ecco io aggiungerei una cosa dopo aver guardato a tutto l'insieme e alle grandi positività che ci sono forse dovremo lavorare in questo nuovo tempo che si apre davanti a noi dovremmo lavorare un po' di più per creare delle sinergie di forze soprattutto a partire da quella che è la realtà della famiglia non dimentichiamo che il Papa Francesco ha voluto celebrare due sinodi uno straordinario in preparazione poi di quello ordinario e alla fine di questi due sinodi il Papa ci ha dato un'esortazione post-sinodale amore e siletizia ecco io credo che il Papa ci ha dato un'indicazione molto forte partendo proprio dalla famiglia perché la famiglia vuoi o non vuoi è il nucleo essenziale è la cellula vitale della società, di qualunque società è vero che oggi si parla di una diversità di famiglie è vero che forse si vuol far diventare la famiglia tutto quello che forse famiglia non è però questa realtà fondamentale della Chiesa ma anche della società va valorizzata e alla famiglia vanno dati tutti gli aiuti necessari perché essa possa sussistere e possa far crescere il futuro della nostra società che poi sono i bambini e a questo proposito bisogna dire che ci troviamo in un momento molto difficile i numeri parlano molto chiaro c'è una denatalità nella nostra Italia anche nella nostra Sicilia che comincia a fare paura e ci fa temere per il futuro questo sicuramente sì, il grosso problema di fondo è la famiglia che è in crisi nel momento in cui c'è la crisi dentro la famiglia la crisi poi si estende alla società e in effetti il problema è anche le difficoltà che nascono dalla mancanza di lavoro magari i ragazzi che vorrebbero creare una famiglia non lo fanno perché non hanno il lavoro, non si sentono sicuri di conseguenza non hanno i bambini è come se si fosse creato tutta una serie di paure, di timori che se andiamo a guardare la storia, il passato nel tempo passato questo problema forse nemmeno ci si pensava perché 50 anni fa ci si sposava tranquillamente non facendosi troppi problemi se la casa c'è, se non c'è anche se il lavoro era quello che era si accoglievano i figli e si consideravano i figli come una ricchezza, un dono di Dio che avrebbe aiutato a crescere la famiglia anche dal punto di vista del lavoro, dell'economia ma su questo strato però la famiglia poggiava anche sul discorso della fede, nelle famiglie la fede era molto più forte che era la base su cui i nostri nonni e i nostri bisnonni si fondavano quindi credo che anche la mancanza di fede non aiuta beh è fin troppo chiaro questo perché la fede per chi ha il dono di averla e per chi ha abbracciato e ha accolto questo dono grande del Signore io lo definisco un valore aggiunto noi vediamo come tante mamme, tanti genitori con molta difficoltà vanno avanti ma si sentono motivati ad andare avanti proprio perché hanno voluto dei figli proprio perché capiscono che il futuro è possibile nella misura in cui oggi noi lavoriamo per il futuro e i genitori e le famiglie cercano di farlo con grande responsabilità la denatalità noi lo sappiamo è un fenomeno che riguarda il nostro tempo la nostra società forse perché abbiamo meno capacità di rischiare non riusciamo diciamo vogliamo programmare tutto e non riusciamo a lasciare alla improvvisazione con le virgolette però della possibilità che possa venire al mondo un figlio del quale poi ci si prende cura e questo costituisce certamente il futuro cosa le piacerebbe realizzare nella nostra diocesi a partire da questo anno pastorale ha un sogno, un progetto che lei vorrebbe concretizzare insieme sia ai membri del clero e insieme ai laici ma diciamo che io un progetto non me lo sono fatto da solo in questo anno ho avuto la possibilità di leggere il tessuto ecclesiale della chiesa ragusana e ho visto che ci sono tantissime note positive forse quello che necessita è un coordinamento più forte e il raccogliere in sinergia le forze vive che ci sono nella diocesi se io dovessi immaginare il futuro di questa diocesi lo immaginerei in questo modo mi piacerebbe che i laici potessero essere veramente protagonisti della fede e mi piacerebbe molto se all'interno delle comunità si creassero delle reali dei reali gruppi di persone che si prendono cura degli altri credo che sia di fondamentale importanza anche il mettere al primo posto la realtà della famiglia perché è nella famiglia che noi troviamo tutte le dimensioni degli anziani ai bambini alle coppie e alle difficoltà che si vivono nel mondo in cui ci troviamo immessi in questa attuale contingenza mi piacerebbe immaginare una chiesa tutta ministeriale dove i laici hanno una grande consapevolezza della loro fede si formano cristianamente e rendono i loro servizi concreti all'interno della comunità dove l'uno dei servizi si innesta con gli altri e si crea una rete che diventa rete educativa che diventa prospettiva di salvezza anche per la famiglia stessa che diventa occasione per mettere in sinergia le forze anche di carattere economico e venire incontro alle persone che vivono in necessità vedo che nella diocesi di Ragusa per esempio ci sono pochi diaconi e quelli che ci sono sono stati ordinati tanti anni fa non si è proseguito in questo iter mi piacerebbe che ci fossero dei diaconi perché il diacono dovrebbe essere il forte richiamo alla dimensione concreta della carità e allora se non ce li abbiamo probabilmente le comunità non vengono stimolate a questa dimensione come pure mi piacerebbe anche una forma di ministerialità lettori, accoliti ma non solo la ministerialità che afferisce alla liturgia vedo con molta soddisfazione diciamo con molta gioia che ci sono anche delle parrocchie che hanno creato delle buone caritas parrocchiali dei buoni gruppi che lavorano a servizio della carità e a servizio del prossimo e questo naturalmente fa ben sperare non si può delegare ad altri bisogna che le comunità al loro interno con il presbitero che la guida che la guida devono poter attuare concretamente tutte quelle dimensioni della vita della comunità cristiana che poi consentono di creare una vera e propria comunità credente Lei è nato e è cresciuto a Palermo le manca la sua terra si sente nostalgia ci ritorna quando può per rivedere i luoghi a lei cari le persone gli amici credo che questo sia importante perché ritornare ogni tanto nei posti dove si è cresciuti aiuta a ricaricarsi e ad acquisire quella energia necessaria per svolgere bene il proprio servizio Sì io ho una mia teoria la ripeto ogni tanto ogni tanto dico che quando noi diciamo il primo sì e lo diciamo realmente e serenamente non siamo più padroni di noi stessi perché poi a condurci è la vita a condurci è anche le scelte che abbiamo fatto a condurci è Dio stesso che in fondo qualche volta ci sconvolge anche ecco dire che non ho nostalgia di Palermo sarebbe una bugia mi piace molto è la città dove sono cresciuto dove ho esercitato il mio ministero da prete dove sono stato anche da vescovo ausiliare per otto anni e quindi conosco il tessuto ecclesiale palermitano e so quanta bellezza c'è in quella diocesi ma apprezzo ovviamente la grande bellezza che c'è anche nella diocesi di Ragusa perché le dimensioni sono diverse l'umano è anche diversificato ovviamente però vedo con grande gioia che ci sono delle grandissime potenzialità nella nostra chiesa che io penso di dover sviluppare soprattutto con la collaborazione dei presbiteri e dei tanti laici buoni e bravi che ci sono nella nostra diocesi una piccola curiosità vogliamo offrire ai nostri ascoltatori così è una curiosità da amante della cucina perché amo molto cucinare i piatti tipici tradizionali di Ragusa sicuramente ha avuto modo di assaggiarli cosa le è piaciuto di più gustare magari le ama mangiare spesso e mangio tre volte al giorno come tutti più o meno ecco non sono denutrito questo si vede me la cavo però qui ho scoperto alcune tipicità molto locali diciamo per esempio la scaccia o lo scaccio le scacce le scacce ecco queste le ho ormai credo esaurite tutte perché me le fanno trovare un po' dovunque ma insieme con questo ci sono poi i piatti tipici della cucina ragusana recentemente mi hanno regalato anche un volumetto nel quale ci sono delle ricette e siccome nell'episcopio sono venute ad abitare una piccola comunità di religiose che dovrebbero occuparsi in qualche modo del vescovo e non solo di lui ecco io ho consegnato il libro a chi di competenza spero che qualche di una di queste ricette possa essere realizzata vediamo come se la cavano le suore beh sicuramente ci vorrà un po' di aiuto magari di qualcuno che è abituato o abituata a cucinare in un certo modo e magari può affiancarle per aiutarle a preparare questi tipici nostri piatti molto particolari che abbiamo solo nella nostra zona è vero è vero ho trovato proprio una tipicità di alcuni piatti molto molto buoni peraltro molto buoni c'è una buona cucina è una cucina direi molto tradizionale però molto bella molto anche direi poco dannosa ecco perché le cucine edulcorate procurano poi anche dei disturbi di carattere fisico e invece trovo che la cucina ragusana sia veramente una cucina molto genuina molto semplice anche sì è un po' la natura è quella contadina diciamo magari nella parte della zona interna è più legata ecco alla ricotta alla carne mentre nella zona più sul mare i cibi sono più legati invece al pesce al pesce sì sì ma comunque è una tradizione molto molto antica e nella sua peculiarità ha avuto sempre la funzione di unire la famiglia di creare quell'atmosfera familiare molto bella di affetto di amore che appunto per la famiglia di quello di cui abbiamo parlato finora ma anche la buona cucina aiuta a creare un legame familiare a diciamo a fare in modo che i legami si rinsaldino quello di ritrovarsi attorno ad un tavolo a mangiare insieme diventa sempre una dimensione agapica una dimensione di condivisione una dimensione non solo della condivisione del cibo ma della condivisione degli affetti e mi pare molto importante lo vorrei sottolineare in una delle sue udienze Papa Francesco ha voluto sottolineare come non ci si può sedere a tavola ognuno col proprio cellulare e ognuno che continua a tavola stesso mentre si mangia a scrivere e ad avere contatti all'esterno quando ci si siede a tavola bisogna assumere questa dimensione proprio della familiarità i telefoni vanno messi a parte e anche altre cose vanno tolte di mezzo per vivere direi con con grande intensità quei pochi momenti che riusciamo a rimanere attorno a una tavola dove si incontrano gli sguardi ci si scambia i sorrisi si scambiano le parole e si cresce in modo armonico e soprattutto potendo confidare l'uno sull'amore dell'altro bene ci avviamo alla conclusione di questo nostro appuntamento di oggi io ringrazio il nostro vescovo Monsignor Carmelo Cuttitta per essere stato con noi sono io che la ringrazio per avermi invitato e per avermi dato l'opportunità di raccontarmi in qualche modo alla prossima occasione sicuramente sì saluto e ringrazio chi ci ha seguito ciao da Gianna Cataudella e buon ascolto con i programmi di Radio Caris e buon ascolto